Siamo partiti qualche anno fa con il GAL per attivare una rigenerazione urbana del mio comune. Il mio comune, ricordo, è un comune che ha subito i danni al terremoto del 68 e in cui c'è stato un parziale trasferimento del vecchio centro nel nuovo centro. Di conseguenza molti edifici del vecchio centro sono rimasti di proprietà del comune in abbandono totale. E quindi da lì è nata l'idea di far crescere una rigenerazione urbana all'interno del vecchio centro dando la possibilità così di ripopolare il mio comune, il paese di vita. Su questo è nato. Avevamo interloquito con il GAL perché c'era questa possibilità. Ora con ITI praticamente c'è questa possibilità di accedere a fondi che arriveranno dalla comunità europea, dalla regione, insomma un po' da tutte le parti, che dà una prospettiva effettiva di poter rigenerare il paese. Abbiamo incontrato le scorse settimane il dottore Furco per il conto del GAL perché abbiamo delle strutture che sono un po' come i gabibbo di una volta ci ha abbandonati, costruiti 30 anni fa, 40 anni fa abbandonati, quindi vorremmo riportare a vita perché è una struttura bellissima in quanto è di circa 2000 metri quadrati, fronte mare si può dire nella località di Castelluzzo, quindi vogliamo fare questo per rendere una struttura polivalente da poter utilizzare a favore della collettività. Qua abbiamo proposto qualcosa sia per il centro storico che anche per le periferie. Sia? Per il centro storico, proprio fa parlavamo, è una cosa su cui parliamo da anni, noi abbiamo il centro storico, un luogo dove da una parte abbiamo il castello di Venere, oggi ci sono dei lavori in corso di restauro, dall'altra parte abbiamo un giardino storico molto importante, sono iniziati i lavori con i fondi del PNRR per il suo recupero, nel mezzo ci troviamo un castello che è privato. Una nostra idea che coltiviamo da anni ma dobbiamo trovare le risorse è quella di comprare anche quel castello e fare quindi un po' l'attrattivo assolutamente interessante. Questo per quanto riguarda la parte che sta sopra, ma non dobbiamo dimenticare che sotto c'è 26 mila abitanti, con tutti i problemi di 26 mila abitanti abbiamo anche lì dei progetti che abbiamo anche sottoposto all'attenzione di questo progetto che riguarda la rigenerazione di parte del territorio, mi riferisco al lungomare piuttosto che ai quartieri che nel tempo sono stati costruiti abusivamente e che possono trovare, potrebbero trovare, come dire, uno spazio filangiario anche all'interno di queste risorse.